La vittoria numero due è arrivata a Tollo, Tollo che vi ha ospitati egregiamente, che vi ha fatto giocare su un diamante di assoluto prestigio e che è intitolato al mitico, naturalmente, La Sorda, che è di origine tollese. Il campo è stato inaugurato non più tardi di un mese fa e finalmente l'Atoms Chieti ha giocato in Abruzzo, naturalmente, su un campo da softball che è decisamente preparato, non dico al nostro vantaggio, ma ci hanno dato una grossissima mano, soprattutto perché ci hanno permesso di recuperare una delle partite che era stata rinviata per mal tempo all'inizio del campionato. Bisogna anche guardare ad adattare anche il campo di Santa Filomena, di questa zona di Chieti, perché è uno dei problemi, dei tanti problemi che avete, bisogna sistemarlo assolutamente, l'assessore aveva promesso. L'assessore, spero che abbiano risolti i problemi che c'erano in comune per poter emettere il bando di gara, in modo tale da poter capire come fare per risolvere i problemi tecnici. Certo, non sono i soli che ha la società, intendiamoci, però avere un campo adeguato che ti permette di giocare in maniera di livello superiore, sicuramente migliora le prestazioni anche delle atlete, ci mancherebbe. Quindi noi aspettiamo con grande ansia l'emissione di questo bando, sperando di poter ottenere un vantaggio dal punto di vista della sistemazione del campo, che ormai richiede veramente un grosso rifacimento di tutte le strutture, sia le nostre che quelle del baseball naturalmente. Per una squadra che comunque, diciamocelo francamente, si può salvare sì o no? Noi siamo assolutamente convinti di questo fatto, senza altro aggiungere. Naturalmente sarà difficilissimo perché giochiamo contro società veramente equipaggiate con grossi calibri. Però le ragazze che stanno ascoltando stanno pensando, Presidente, ma che stai a dire? Noi ci salviamo. Assolutamente sì, questo è fuori dubbio. Purtroppo il permanere in A2 significa anche essere, diciamo così, vedute, viste dai tecnici della nazionale che farebbe la differenza per le ragazze che potrebbero aumentare il loro livello in maniera consistente. Da non dimenticare, ripeto, che l'Atoms è la società che ha tenuto a battesimo Fabrizia Marrone. Fabrizia Marrone è una delle atlete di punta della nazionale che hanno appena finito l'esperienza alle Olimpiadi l'estate scorse e che quindi, ripeto, ci ha dato grosse soddisfazioni e prestigio.